Salve a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, io sono Gamer2038 Oggi siamo in un video su Minecraft Siamo in un video dove farò vedere la mia casa Ora sta piovendo, sono su Minecraft come potete vedere Sono in un server che si chiama Xtremecraft È molto famoso, ha 1700 giocatori medi giornalieri Come minimo ha 1600, quindi è famosissimo, è molto popolare E come vedete questa è la mia casa Qua c'è una lanterna, ora sta piovendo quindi c'è un po' di nebbia Darà fastidio, non lo so, spero non vi dia fastidio C'è la luce di pietra rossa Ho le shader con le fast, con le light Perché il mio computer non le regge E oggi vi farò vedere la mia casa Allora questa è la casa numero 1 Perché si, ho due case Questo è l'inceneritore ragazzi Dove ci voglio buttare ciò che voglio Tipo la diorite che non mi serve a niente La prendo E la butto Ora, ok, devo centrare per benino Così, ok Come vedete cade nella lava Si inceneriscono Ok Poi qua c'è la finestra pietra rossa Quando non ci sono la chiudo Così E poi quando ci sono invece la apro Bene Ora Qua c'è la porta Qua c'è un tunnel sotterraneo Che chissà dove porterà ragazzi Ve la faccio vedere subito Qua c'è l'acqua E finisco fuori Ok qua, vabbè C'è il campo di patate Però comunque È molto carina come cosa Perché all'inizio avevo messo una trappola Quindi come entrata personale Avevo messo il buco qua Nell'orto E poi Questa è la casa del mio amico Vi lascio il link in descrizione al suo canale Anche lui amante di Minecraft Questo è l'orto Quello Automatizzato E ora vi faccio vedere la seconda casa Tutta mia L'ho costruita io Ovviamente Eccola qua Molto carina Un po' rotonda Entriamo Vi faccio vedere Ok Questa è la casa ragazzi È bella vero? Trovate il link del tutorial in descrizione C'è un canale che fa vedere molti tutorial su come costruire case Vi lascio il link in descrizione a questo video Qua c'è un orticello così per bellezza Qua c'è la cesta Qua c'è una fornace E qua invece C'è il banco da lavoro E qua un altro fornace Che fa tipo da camino Con i tubi che vedete Qua invece c'è per bellezza Delle Delle canne di bambù Delle canne da zucchero E qua invece ci sono le foglie Ok andiamo al secondo piano Che non c'è molto Il secondo piano in verità non c'è nulla Ci sono questi lampadari infatti molto semplici C'è qua una vetrata Tante vetrate E qua Cosa ci sarà mai? Andiamo a scoprirlo Ok questo qua invece è la spara ragazzi Ho messo Il per terra Di Di quarzo del nether E qua invece ci sono delle lampade Dilluminite Che riscaldano Che dovrebbero riscaldare la zona Facciamo così Hanno la funzione di riscaldare Purtroppo c'è la pioggia Che rallenta un po' ragazzi Perché la pioggia ovviamente rallenta Però sembra stia uscendo il sole E niente ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un like Iscrivetevi E noi ci vediamo al prossimo video Ah e ultima cosa Il vetro sembra bagnato quando explode Cioè è veramente figa sta cosa ragazzi Vi lascio link shaders E Tutto in descrizione E ci vediamo al prossimo video Ciao ciao